Che cosa vuoi fare? Entrare nel corpo di ricerca e ammazzare quei giganti è soltanto questo che voglio! Tu che cosa vedi? Io sono diverso da quelli là, capaci solo di fare gli spacconi qui nelle mura! Scegli, vuoi aver fiducia solo in te stesso o anche in me e in questo gruppo di soldati del corpo di ricerca? Non avere tutti! Stemmerò tutti i giganti dal primo all'ultimo! Combatti! Combatti! Dal primo all'ultimo! Dobbiamo sfidarlo sapendo bene di poter perdere tutto pronti ad assumersi ogni rischio Questo mondo è estremamente crudele Questo mondo è estremamente crudele!